Ma che stai a fa'? Ricordati che i squali stani arrivò! Hello! Closhard! E benvenuti in questa nuova trasmissione! E di che stiamo a parlare? Bella domanda! De che boh! Non si sa! Si vota! Si vota! E non Casa Pound! Oh yes! Oh yes! Si vota! Ciao Lucia! Cucu nonna! Cucu nonna! Lo sapete che ho sognato Lucia a Roma? No dai, Marran, la prego! Che devo dire? La verità, due notti fa, ho sognato solo ai Boscar, niente di scamproso. Cosa succedeva? No, era tutta elegante, si era arrivato sul palco e c'era Paolo Cannone, non so perché. E basta, però non mi ricordo. Te facciamo mettere un vestito... Non è un sogno erotico, no. Un vestito ricoperto di diamanti, trasparente. Allora ragazzi... La vestiamo come la regina d'Inghilterra. Beh, sì, giusto. Allora ragazzi, oggi Marco Chitano voterà in diretta per voi e anche Gianluca perché non hanno ancora votato. Cosa assurda. Ma soprattutto... Che ne pensi questa cosa della votazione, della democrazia, Chitano? È superata, superata. Però oggi ti presti a questa pratica arcaica. Solo per voi, solo per voi. Ok. Vabbè, ricordiamo che domani, se non erro, alle 18 si chiudono le votazioni, quindi l'abbiamo fatto appositamente dopo diversi giorni. Per ringalluzzire. Anche per evitare troppa, diciamo... Di procrastinatori, insomma. Per evitare troppa influenza, diciamo che più o meno da quello che ho visto le categorie sono abbastanza locked. Sì, sì. Locked. Lockdown. Questa è rush finale, ragazzi. Sì. Infatti, come voteremo noi, sicuramente i restanti apriranno la pagina insieme a noi che verrà linkata in chat in modo da votare tutti insieme. Ma prima, io sono molto in hype perché è uscito il nuovo video di Riccardo... No, no, no. È il nuovo video di Jerry Biscotti. L'ultima opera magna. Non vedo l'ora e si chiama Best of Follia. Già il titolo. Non ho visto neanche un secondo perché voglio gustarmelo in live. Jerry Biscotti, top montatore della galassia. Ma che è 300 viewer? Ma che è questo? Ma le pare, Mara, che abbiamo un 333. No, così. Quindi, io direi di procedere. Best of Follia. Andiamo. 333. E' un'altra volta fatto bene al cinema. E' un'altra volta fatto bene al cinema. Corale. Con tanti personaggi, ma non dico altro. Voci bianche, diciamo. Voci bianche, voci bianche si può dire. Una grande live. Potremmo definirla il pub del C. Urfanotrofio. Del C. Del C. L'urfanotrofio del web. Ovviamente, Simone viene allegato nella torre. Sì. Sicurezza. Sì, sì, stasera top live. Comunque, andiamo. Luca, ma cos'è questa cosa? Cos'è questa cosa? No. Che colpo. La rimetto qui come era. Ok. In chat, qual è il jingle che vi ricordate ancora oggi? Jingle pubblicitario. Barbie, splendida sirena. Ha traumatizzato. Barbie. No, fallo con il kazoo, Marco. Si capisce meglio. Fammelo prima a fare normale, se no non mori. Barbie, splendida sirena. Mi giuro. Porca zoo, Marco. Bravi, Polaretti, porca puttana. Polaretti. E poi c'era tutta quella cosa. Sì, volevo dire, volevo dire, volevo dire, volevo dire. Sì, scendendo anche a ciò. Io stavo a scusare la colpa. Sì, sì. Se vede che la... Sì, scusate. Se... Ritavita. È già il fatto di... Tornare indietro. Ma parlando di cose serie, perché... In questo cd di Metal Carter c'è del sangue? Eh... C'è del sangue. È un segreto. Guardate qua. Questo non è della copertina, questa roba qui. Non è vero, Davide. Se notate, il sangue è un elemento fondante dell'artwork di questo cd, di questo LP. Quindi è uscito fuori dal disco. Eh sì. Belli lavori dove ti sporchi le mani, no? Come così. Oddio, ma guarda. Esce fuori dal disco. No! È sangue il nero. No! Ha spaccato tutto. Che cazzo ha fatto? Forse sono pazzo io. La parte della giacchetta che in questo momento è alzata, qui sulla spallina, non sembra è T nero. Guardate, guardate, questo è l'occhio. Non so come ha fatto affresciare questa cosa, però è un po' che mi hai portato, che c'ha la capocetta schiacciata, no? Questa è Impress, la nuova generazione di ortodonti. La bite notturna. La live non mea ricordo. Minchia. Secondo me è povero. È un po' più un tipo alla Victor Laszlo. O.S. C'è un tipo alla marra, è un tipo alla Victor Laszlo. Non lo so. Immagino di sì. Abbiamo parlato di Bite notturno due live fa, a voce. E oggi c'è la pubblicità del Bite, a buffo. È vero. Voglio far notare sta cosa. È vero. A caso. Il paradenti, zi. Io sono paranoico. È vero. Bite de notte mi serve, ne ho bisogno perché non riesco a dormire. No. Io non ho mai cercato. Io poi ho detto la stessa identica cosa, ma è quello che assomniare il paradenti. È una cosa gravissima. Fantascienza. Fantascienza. Non lo so. Immagino di sì. Ognuno avrà le sue preferenze. Non ti sbilanci oltre. Ma no. Se parla di cinema, insomma, dai. Principalmente so opinioni personali, dai. E quando in privato mi dicevi quelle cose su Victor Lasmo? Ho detto che venerdì lo blasterò su Matrix. Perché ho normi di merda. Non l'ho detto mai. Di giusto. Non l'ho detto. Guarda che fa. Dai. Ho detto una cosa del genere. Ah no, perché? Stavo toffocando. Guarda che satico di merda. Mi mancava il respiro. Faceva ridere. Faceva ridere. Un urlo di quella capra strana. Poi questa canzone l'amo io. Faceva ridere. Mi sta a sentire male. Grazie per l'hype train livello 2. Oddio. Guarda. Ho detto una cosa del genere. No dai, dì quella cosa. Oddio. Dì la verità, Simone, ti prego. Perché è un norme di merda. No no, perché? Faccio. Che stronzo. Allora ragazzi, Max è un eroe. Il nostro amico Max. Max Pezzali. Il mio ex mi sbatteva la testa sul water. Max mi ha salvato. Ma come mai? Ma chi sarai? E fa sbatte adesso al water. Notti intere ad aspettarti. Avrà fatto così per far desistere il fidanzato tale. Ma cosa fai? Perché lo fai? Era un batterio. Lo affronto. Mi ricordo sta cosa, cioè. L'asse del water. Sei un mito. Grazie mille per aver visto questa live. Noi ci vediamo domani alle ore quindici. Nessun rimpianto. Ciao ragazzi, a domani. È un gioco, dai. Ciao ragazzi, a domani. No, non è il social boom. Non credo abbia il daspo, il cerbero. Dovremmo controllare. Nei faldoni aziendali. Marco, mi controlli un secondo la lista dei vari daspo. Eccolo, eccolo. Facci farlo vedere. Attento, attento, attento. Non fa vedere. No! Sacca puttana. È il libro delle decisioni dei soci. Allora, questo adesso, paurissima. Libro decisioni dei paura. La paura, proprio. Decisioni dei soci. Guardate il panico. Comunque Gerry è il maestro assurdo. Mamma mia, oddio, oddio. I segreti di stato, proprio. Oddio, la mia espressione serissima, preoccupata. È il libro delle decisioni dei soci. È la decisione dei soci. Quindi di tutti noi, in teoria. Ci sono ben quattro pagine. Puoi aprire la sezione d'Aspi? Per favore. Vedono delle anime ogni tanto, nelle pagine. Che escono? Delli mortacci. Ragazzi, noi sentiamo malissimo queste casse. Anche se le abbiamo comprate, le casse nuove. Facciamole vedere. Grazie alle donazioni. No, no, no. Non te non te non te quella va. È calda. Guardate, come finisce in tragedia. Mi stavi cominciato. Io mi stavo urtato. Troppo rito. No, non te non te quella va. No, mi stava urtaio in questo momento. Tutto nervoso. Simone, ma è intuitivo. Non è stata da quel lato. È appunto. E vabbè, c'è via. C'è via di casa di Davide. Allora, falla vedere. No, che trago. Ma che era? Hotel California. No, era Despacito. Ah, Despacito, è vero. No, vabbè, aspetta. Ma è intuitivo. Non è stata da quel lato. È appunto. E vabbè, c'è via di casa di Davide. Allora, falla vedere. Facciamolo vedere. Se vede la via. No, c'è via di casa di Davide. Tanto c'ho... Vedio camere fuori. Oddio, c'ho un fucile, c'ho. Ma stacco a stacqua da quanti giorni? E curiosità. Eh, buono. Tipo? Ne ho idea. Tipo? Perché c'è un odore molto strano. Alla salute. No, 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 è vecchia. No, sembra la scena di quello... La mia... Senti. Allora, assaggio, assaggio. Ma che assaggio? Io questa l'ho usata per lavarmi le mani. L'altro giorno perché l'ho riempita... Ma non è una cosa schifosa, non è merda. Anzi, forse. Perché l'ho riempita nel lavandino del bagno. Quindi forse se potrebbe essere... Simone perché... Ma che vuoi da me? Ma che vuoi se fai il bidelli? Guarda che str***o. Ma che c'entro io? Cioè, tu pensi che io cago nel lavandino, Gianluca? Ma che chi mi hai preso? No, io penso che tu ti faccia il bidet nel lavandino. Non mi faccio il bidet nel lavandino. Io quando cago nel cesso lì... C'è il lavandino qui, a sta distanza qua. Spesso e volentieri non c'è la cartigenica. Quindi ancora seduto sul cesso, accendo il lavandino, prendo l'acqua. E me pulisco il culo. Con questo movimento. Così fluido? Sì, con un movimento fluido me pulisco il culo. Però le particelle di mezza non toccano il lavabo. Vanno sull'acqua che poi vanno giù nel tubo. Ma allora quest'acqua non è a rischio. Meno male. Ma che ne pensi, Mr. Flame, con quella mascherina? Ma, ma, Mr. Flame, c'è solamente un personaggio costruito. Cioè, senza mascherina non va sopra. E sì, con quel cappello? Ma quale cappello? Quello cappello strano che c'ha... Cappello. Ma quale... In che senso? Oh, quel cappello ottocentesco, così. Ma... E se usa più penso dall'Ottocento, Marco. So capire. Se usa più penso dall'Ottocento. Poi noi tutti... Io non capivo, ma in che senso? Ma chi si sta riferendo? In qualche zona rurale ancora se usa. Non vedevo cappelli. Ma davvero. È infatti, si so capire. È perché non sono lo schermo grosso. Però... E quel cappello. Che spettacolo, va. E toro. Piccolino. Quei danno il TSO con i toro. Che era? Ho visto... Mi è passato pure in live il cristale. Mi ha scritto... E te con quel cappello? Grande. Grande, grande. Lo so tagliato. Grande cristale. Grande. Però... E con quel cappello? Non ave... Ho visto Marco entrare con la macchina. In garage. Io sono entrato dalla porta principale. Era tutto spento ancora. Allora... Dico... Sentiamo lo scherzettino. Ah, praticamente Marco ovviamente sta entrando dal garage. Nascosto Davide qua. Oddio! 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 E poi ha lanciato una roba con una leggeresse. E fa il pazzesco. Oddio! Cioè non è che l'ha tirata tipo di paura. Proprio con le leggeresse. Oddio! Ma poi erano cuscini. Sono tu, uccidimi. Soprattutto era una busta piena di cuscini. Sì esatto. Ma tipo dama anni cinquattro. Oddio! 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 Sì, raga, bravo Ulli. Era un po' come... Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. È preso in un pari. Su quel tono là. Oddio! 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 Fazzesco la busta! Oddio! Il pulitmo non ti rende mai. Lo sporti invece sì. È arrivato un 2. Io scappo. Ci vediamo lunedì per forse una live epica. Mi seguo dalla macchina. Ciao Marra. Ce l'hai capito? No, no, no! Non si porti che la sedia! Non si porti che la sedia! L'avranno lì! Ma che cazzo ha fatto? No, ma io ho detto... Ti voglio i metati! 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 Non lo faccio! 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 Perché questa è l'espressione di Rubino Sigma! Cos'ha dai? Sto in live! Per di cè? Per dimmi sta cosa! Cioè sta c... L'espressione di questo plebeo! Mi sta interrompendo la live! Cioè voi la ponte! Cazzo i tele falliti! Dai! Reagite a sto video! Cazzo! 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 Basta! Poi, prossima cosa! Mister Clip! Lui muta le parolacce! Questo video è, vi giuro, tipo il 30% mutato! E non sto esagerando! Ma allora, quelli che fributano e che mettono i dosi, i bip, i muti proprio non valete un cazzo! Vabbè, i papidi! 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 Ciao, ragazzi! Che trovo! Che trovo! Ragazzi! Siete bravi ragazzi, non bisogna chiamare nessuno! Ma tu sto pizzetto! E te con quel cappello! E te con sto pizzetto! Siete bravi ragazzi, non bisogna chiamare nessuno! Ma tu sto pizzetto! E te con quel cappello! In effetti è la risposta... Un attimo Vito, scusami! Ci hanno comunicato, il sergente ci ha comunicato che c'è una persona che deve assolutamente parlare! Eccolo! Spiderman! Spiderman! Ragno umano! Ho già visto quella cameretta! Ciao, ragazzi! Sono io il vostro amichevole Spiderman di quartiere! No, no! Volevo dire una cosa molto importante! Me l'ha detta il signor Stark! Don Vito, perché ce l'hai con me? Don Vito, sono Littardo Rosario, trattino basso! Perché cazzo ce l'hai con me? Non c'è il signor Stark! Non c'è il signor Rani! Non c'è un sacco nell'ultimo periodo! Penso che sia proprio fattuale! Anima! Lo posso proprio smettere nero su bianco oppure nella roccia! Non c'è quello che è successo con Matteo HS è avvenuto perché lui non è più quello che era una volta! Perché secondo me se sto fatto fosse accaduto... Attenzione, sarebbe... Calcio d'angolo! Calcio d'angolo! Bello! Occhio, me spaccati tessi! Vabbè! Dove si balla? Tutti tene! Balla! Tra i rottami! Tra i rottami! Tra i rottami! Per restare a un'alla! Negli incubimenti! Stoff me l'avete segnalato ma che... No! Tutte le volte l'hai detto me l'avete segnalato! Gerri! Gerri! Meraviglioso! Meraviglioso! Top artista! Incredibile! Lo condivido pure! Come dar più valore al Cerbero! Mancava un bel best off di pura follia! Incredibile scrivo! Sì 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 sì! Incredibile! Incredibile è l'aggettivo giusto! Mamma mia! Stupendo! Comunque regà! Un bel... Ve lo devo dire! Un bel meme incredible con Greenbad! Qualcosa hanno fatto! Ho visto qualche best off! Incredibile è proprio chiamato! Proprio con il tuo fondo incredibile! Già muovedo guarda! Perché non c'ho tempo! Sennò ci metterei a fare i meme! Ah questa è pure interessante! Dovrei ingaggiarli! Allora devo dire una cosa! Cerbero Clip! Che solitamente è un altro... Insomma sempre fatto dei best off anche lui! Un grande fratellino! Oia! Ha cominciato a inserire anche delle vere e proprie clip! Quindi non dei best off! Sì! Come suo nome! Cerbero Clip! Finalmente ha capito! Incredibile! In fondo non è che si chiamava Cerbero Best Off! Esatto! Giustamente! Esatto! E questa è interessante! Per esempio... Non si può dire marketing! Però non esiste una parola che corrisponda! Quindi bisognerebbe inventarla! Quindi dovremmo chiedere al SEO penso! Allora! Parola italiana per sostituire marketing è operazione confettata! Guarda te la butto là! Te la butto là! Secondo me potrebbe essere inserito! Perché è nuovo! È nuovo! Si capisce! E poi dà proprio un senso! Ma ti è venuto in mente guardando la mia felpa? No! Perché è venuto in mente perché il confetto se tu vai... Analizziamo questo concetto! Del confetto! Curato! Unico! E a strati soprattutto! Un'operazione confettata! Un'operazione confettata! C'è ragione! C'è ragione! C'è ragione! C'è ragione! A me fai troppo bello! Non fa una piega! A me fa troppo ride quando dici le cose con quell'empo! Confettata! Perché vuoi perseguirci! Perché vuoi perseguirci! Ma io poi non so che cosa avviene nella mia mente! Che voi ci chiedete o meno sono cose che un secondo prima ancora al mio cervello non ha pensato! Avvengono cose meravigliose! Come questa del resto! Questa è bellissima! Allora io ho letto nei commenti... La cura Ludovico per Morgan! Sì ho letto nei commenti che hanno invitato Morgan a questa trasmissione che... Cioè lui sta durante tutta la trasmissione durante tutta la trasmissione ha fatto i numeri e hanno certo ho letto anche un commento che lo stavano per cacciare! Qui Morgan è tipo Benson a stile libero! Esatto! E questa io la conosco... Vabbè sono... Prego c'è pure Valerio Scano! Questa? Sono... Lei la conosco ha fatto tali e quale! Ah ok! Quindi fa parte di tutti quei cantanti un po' così... Ok! Faccia media! Ok! Quello che sono nel piano non lo conosco e c'è invece un Valerio Scano in formissima! Ma vocalmente dici? No! Valerio Scano che era quello che aveva fatto amici tipo che aveva vinto amici! Valerio Scano in tutti i luoghi in tutti i mari! Era quello che aveva vinto amici che poi andato a starevo! In tutti i lavori! In tutti i lavori in tutti i lavori! Vabbè Scano! E hanno cantato la canzone preferita di Morgan di questo festival! Ok! Brividi! Questo è Mahmood dell'Aurospine! Aspetta un attimo! No no! Devi mettere pausa! Ah questo Scano! Chi è quello che canta il pianoforte? Mahmood di Wish! Allora scusa! Mahmood ha un'intonazione vocale molto particolare! Ok! Se tu la riprendi in maniera un po' così pittoresca può sembrare anche un'offesa verso qualche categoria! Questo è quando... Non direi! Questo è quando nel canto si ha... Ma si tu come attaccato! Non mi ricordo come si chiama però è quando invece di cantare imiti essenzialmente! È l'imitazione! Non usi la tua voce! Esatto! È l'imitazione! Non è una cosa! Provando ad imitare la voce di qualcun altro non sarà mai una cosa autentica! Risulta un po' ridicolo! Risulta sempre artificioso! Forzato! Ma infatti Mahmood di Wish! Ma sì perché non è proprio vocalmente umano! Cantare con la propria voce quella con la quale si parla non dovrebbe cambiare niente nel modo in cui parliamo con la naturalezza con la quale noi emettiamo l'aria con cui parliamo in teoria anche nel canto dovrebbe essere così per non snaturare la propria voce! Come si parla? Fotti te ne canta! Bravissimo! Posso regolare la mia idea in maniera safe? Come canterebbe Mahmood fatto? Sì! Eccolo lui! Eccolo lui! Eccolo lui! Eccolo lui! Eccolo lui! Fabio lui! Ma vieni! Ma vieni Boscare te! In caso scrivimi in privato che ti mando l'indirizzo! Cioè devi essere presente! Eh minimo! Andiamo va! Vividi! Vividi! Ho sognato! Giusto! È semplicemente... Ah lavori! Mannaggia! Peccato! È semplicemente un'operazione confettata! Vabbè se vuoi venire pure dopo la live c'è ne va bene una cosa! Un'operazione confettata! Vediamo! No la voglio cantare Boscare! Ho sognato di volare con te! Mi dà più su diamanti! Vividi! Mi ha detto sei cambiato non credo più! Anzi a me fa ridere! Non lo faccio apposto! Sei cambiato! Ma la scala è giusta però! Mi ha detto sei cambiato non credo! Cioè non è intonato però! È tipo il 45% di Mamut! Non credo più! Pesce diciamo cattivi! Pesce buoni il 70% di Mamut! No raga ma l'amparo vi giuro! Ma l'amparo entro domani e la faccio! Che tu puoi provare a imita un cantante! Ci potrai arrivare anche al 99.9% Ma non sarai mai quel cantante! Quindi sarà sempre cringe secondo me vedere uno che imita un altro! Infatti tipo le tribute band queste cose qua ovviamente non è mai quella cosa lì! Tu l'hai visto il monologo di Montanini sulle cover band? Sì sì! Bellissimo! Allora ho un annuncio importante! Hai ragione! Vai! Questa è una cazzatina! Allora vorrei cantare questa canzone in un opening live! Quindi magari stasera domani non lo so dopo domani guarderemo! Però notizia molto importante ragazzi! Parliamo della mia faccia! Ci ho pensato molto! Voglio essere onesto! Neanche te lo volevo dire! Sono arrivato alla conclusione che se deve partire da me è una cosa che non avverrà mai! Quindi visto che la gente l'ha fatto per molto meno io ho una proposta anche per i miei colleghi visto che non posso decidere solo io! Però è una cosa molto carina perché unisce l'utile al dilettevole secondo me! Ah! Ne hai parlato con Anna? No! Ne ho parlato allo specchio Marra! Ne ho parlato con quella mia anima! Sub! Gol! Di 10k per i Boscar Face Reveal! Io ho pensato così! Grazie! Questo quello fa gente per molto meno per tagliarsi i capelli a barba per colorarli! Questa per me è una cosa importante! Ma è seria sta cosa diciamolo! È molto seria perché non posso scammare! Cioè nel senso potrei scammare ma non lo farò mai! Non conviene! Soprattutto una mancanza di rispetto! Quindi se prendo una posizione del genere io la mantengo! Però voglio che ci sia... Hai capito? Hai Boscar quindi! 10k! Hai Boscar! Senza specificare quale delle tue serate, quale momento! Io metterai il gol immediatamente! Prego Marco! Immediatamente! No ci ho pensato perché altrimenti non avverrà mai! Quindi secondo me così il senso ce l'ha! In più rimane pure la sorpresa perché è imprevedibile quando può accadere durante le serate! Potrebbe accadere in qualsiasi momento! Ma si può definire un'operazione confettata! Questa si si può definire anche un'operazione confettata! Assolutamente! Ma assolutamente! 10k! Non sarebbe Erzio! Vistre via al SEO Boscar! Ok! Questo essenzialmente! Top! Sono contento che vi è presa bene ma come ho detto siete abituati! In fondo avete visto gol per tagliare la barba ai capelli del genere! Sì ma non manca manco troppo! Penso che sia... Meglio 15k! Anche calzante dai! Anche calzante! 10 so pochi dicono! 10k! Ma tanto! Guarda! Intanto se ci arriviamo! Ma perché sono onesto! Cioè i Boscar ci stanno tra manco due mesi regà! No no metti 10! 15k sub! Dai non esageriamo! 15k sub! Guarda io avrei... Guarda ci ho pensato! Ci manco che 12! Però 15k sub! Potrebbe essere uno scam in diretto! Perché io potrei pure pensare tanto non ci arrivo mai così non malevo! Il fatto è che io me la voglio pure elevà! Quindi per quello lo metto a 10! Se dovevo fare un stronzo lo mettevo a 15! Ma magari arrivava ai Boscar a 11 a 12! Ciao! Certo! Sono onesto eh! 10 va bene! Non sono mica ciccio gamer! Greve comunque eh! Ma... Sta battuta? No no no! No battuta! Dico... Qual è stato il tuo processo mentale per arrivare a questa conclusione? Che interessante! Eh ma è lo stesso processo mentale che banalmente ho fatto anche col... Che ne so... Come poteva essere pure col vaccino! Nel senso che se non hai un obbligo... Procast! Procast! Quindi... Ma non è neanche quello! Perché alla fine non è neanche perché me lo senti obbligato! È una cosa che mi ha suonato bene in testa! Nel senso... Quando pensavo... Magari me la levo durante la live! Magari me la levo in quell'occasione! C'era sempre quel... Così invece mi aggrada! Mi piace! Me la prende più a bene! Dicono ma te la togli per sempre o solo in quell'evento? Non lo so! Non lo so! Però sicuro te la levi lì! Poi si vede qui! Sì 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 sì! Ok! Va bene! Andiamo avanti! Vediamo la sofferenza di Morgan! Oh che la tua paura cosa? Una cosa è una cosa è... Un manto è venuto! Amora! Amora! Anche se è senso nome! Vita ti fuga dal conto! Dai non scappare da qui! Non lasciarmi così! Mamma mia Lei è molto precisa, lui no Stavo per dire lei, però non è che non ha affatto a macchietta Lui rovina quello che sta a fare Lei mi sembra precisa A lui è troppo memezzi, è bravissimo Invece, Blanco e Mahmood Dato che si sta cantando all'unisono Quindi cantano in tempi la stessa nota sullo stesso registro Non si sentiva questa cosa fastidiosa Erano molto precisi C'era armonia, qua c'è disarmonia Diciamo di sì C'era enearmonia Che è la stessa nota Non sono due note diverse che si completano Ma è la stessa E se canti la stessa nota devi fare proprio la stessa Paradossalmente Non essere totalmente preciso Se fai note diverse Per una questione di matematica Di proporzioni Però se fai la stessa devi essere proprio la stessa Se no si chiama questo effetto un po' sgradevole Ok Questa è un'armonia di merda La live lei è gg Ok Fabio E pagherei per andar via Accetterei anche una bugia Una bugia Ha stonato pure lui là Mi dispiace Poi sti cazzi È una cosa live Che si può stonare Non è che uno deve essere un automa Da tanto che non lo vedevo Valerio però Frano? Eh sì informissimo No vabbè ma Che è? Non vuoi far body shaming Dico in generale da un botto che non lo vedevo Che cazzo mi frega si è ingrassato Mo veramente dico Secondo voi perché? Mo a parte le stronzate Perché che? Perché è morto musicalmente Ma secondo me il covid Dai regà Una domanda seria Non ha avuto buone hit Non ha affatto canzoni a mio avviso Che spaccavano Secondo voi anche il discorso di immagine influisce? Guarda che lui tipo Qualche anno fa Mi pare 2016 Stava al suo miglior momento di immagine Era bellissimo Se vi ricordate qualcosa Cioè a barba Però le canzoni Che vi ricordate le canzoni? Io no L'ultima che mi ricordo Mi ricordo quella di Tutti i mari in tutti i laggi 2010 però Cioè vinse Sanremo Mi pare 2010 11 E poi Basta Un altro che è sparito è Carta pure Eh Marco Carta Mi ricordavo la canzone Che ha portato una canzone a Sanremo Mo me la so ricordata Che dice Era tipo Finalmente piove Si chiamava Finalmente piove No 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 Sì Valerio Scano Però Tutte ste cose Ma nulla di Popolare diciamo Nessuna hit Non me la ricordo Vabbè È una curiosità Gli sposto la tua No 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 per carità Va bene ma tu che sai ste cose Fai bene a dirle Io proprio Non mi ricordo nulla di quest'uomo Solo in tutti i mari Carta ha iniziato a rubare Ma che vuol dire Che eravamo se le magliette Alla Rinascente no? Marco Carta Ma è kleptomane? No Marco Carta è stato Processato Ma davvero? Ma un po' di tempo fa Ho sentito questa notizia Se non ero Ma è kleptomane Ha rubato una volta Poi non si era capito Ma quanto tempo fa? Un anno o due fa? Io mi ricordo sta notizia Erano delle magliette Alla Rinascente Delle magliette diciamo Che costavano un po' E lui diede la colpa Ad una donna Mi ricordo solo questo E ci sono dei video Proprio dei giornalisti Che lo vanno a intervistare Dopo l'udienza Grazie Grazie Dopo l'udienza Grazie Mazzanapiotta Ma è pazzito DSX Ma c'è qualche cosa Legato? Vabbè cerca cerca So curioso Abbastanza recente In realtà Greve Io non lo so Perché l'avevo già sentita Questa notizia Però mi suonava come vecchia Io mi ricordo Un dissing di Marco Carta A qualche rapper Può essere? No Io non mi ricordo Tipo lui in cameretta Che flexava i dischi d'oro Mi ricordo questa cosa Mi ricordo proprio Ah Prego Prego Ci scrive DSX Grazie mille ragazzi Per tutto quello Che state facendo E per le ore passate A ridere insieme E per i contenuti Che portate Grazie di tutto Grazie a te Grazie Le sub Trenta sub Aspetta De chi? Oh maronna Si inizia la scalata Verso i boss car Forse Do cazzo stanno? No Non si inizia la scalata Verso Verso nulla Sì tutto Grazie per i sub Ragazzi Abbiamo sei sub Di Maxwell Gli ultimi Maxwell Grazie Ah ok La conversione 100 euro 30 sub Vabbè Si inizia la scalata Ognuno dona come vuole Ma certo È stato scagionato Dice Lucia Roma Sì sì E grazie Dieci Eccoli Dieci sub Grazie mille Grande Chris Grazie Chris Grazie Grazie Vado? Prego Non si può dire Chi fa la spia Non è il figlio di Maria Però non sono stato io Questa è la cosa più importante Sono felice di poterlo dire Anche perché Stavano chiacchierando un po' tutti Quindi Ma la signora che è una tua amica Stefano Poi ci sentiamo dai Grazie La colpa è sta signora misteriosa Capito? Brava la voce quella di voi Girare a sinistra Questa vicenda Ci dici che cos'è successo Per fortuna è andato tutto bene Con tutte le magliette rinascendo Adesso vado a casa Ma ste magliette E che quindi? Le magliette E te con ste magliette? Ste magliette Top giornalista L'hanno visto tutti Insomma Il giudice Ha capito Un po' il tutto Sono ovviamente un po' scosso Perché Non sono abituato Non sono E qua Ma ti vero La signora di 53 anni Che era con Non si può dire Chi fa la spia Non è il figlio di Maria Però non sono stato io Questa è la cosa più importante Sono felice di poterlo dire Anche perché Stavano chiacchierando un po' tutti Quindi Ma la signora è che è una tua amica Stefano Poi ci sentiamo dai Grazie Pop trasparenza Sembrava un incrocio tra Omi e Luco Guendo Ma chi è? Marco Calder Ma è tua amica Ha vinto amici Nel senso Ha vinto amici Sanremo C'è un bel Palma West La forza mia No ragazzi Poi magari Ne approfitterò Per chiarire bene sui social Perché magari Maglietta Sono un po' di social Tu hai un po' di social Tutto mania Sono tascosto Tu hai una parola ai tuoi Scusate Un po' scossa Scappa Dove è? In chiapetto le magliette La rinascente Grande gambero Grazie Era questo Vabbè Ragazzi Grazie Il giovane Cold Per 5 abbonamenti Grazie Il giovane Old Man Lo sappiamo tutti Essere portati in tribunale Essere citati È ovvio che non Solamente mia Cazzo stavamo a vedere Allora Marco Stavamo a vedere Morgan Buonanotte Eccolo Vediamo st'esibizione vergognosa Marco Per andar via Accenderei Anche una bugia E ti vorrei amare Ma sbaglio Grazie Grazie Enigma 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 Il fonico Il scheletto fonico Grande Grande Ma c'è un crucifisso Ma che è? Mi pare tipo un frate Non lo so Morgan è SR fatto È distrutto proprio È ligue Ti vorrei scupare Ma resto al verde Ok Che sofferenza Base per meme L'espresso Comunque davvero L'evocazione Questa espressione Vale più di mille parole Oraccio Ora Ma vieni da noi Vieni a San Cervo Vieni a Bosca Ma che dice lui dopo? La musica fatta bene Ma lui dice qualcosa Dopo queste esibizioni Lui è stato per tutta la trasmissione Ha detto che ha sofferto Io la voglio vedere La devo recuperare No vediamo Ah ragazzi Papi nel 97 è stato il primo uomo in Italia A dissociarsi in tv E invece No No C'abbiamo un'altra clip Mike buongiorno Mike buongiorno Forse l'abbiamo vista Bravi Mike buongiorno Disinformazione È stato il primo Poi facciamo vedere pure quello Ma mi ricordate che cazzo di figata Sarabanda Con questo trash Questo Tiger Man Ma Capodanno E il Tigre Ma Capodanno È stata una rivisitazione Di Sarabanda Una certa Mi era tipo preso Il trick Tra che trick Ti ricordi Ah sì Il trick Tra che trick Tra che trick La bomba Me le vedevo tutte Ed ero convinto Che fosse tutto Non scriptato Qualcosa sì magari Cioè nel senso C'era un sacco di scenette Sì sì Qualcosa sì Si parietti Sarabamba Creavano proprio personaggi Ovviamente Era un varietà Grazie Giammi Filo Giammi grazie Scriptavano più i camerini Sarabamba Che stava a dire Era un varietà folle Proprio Bellissimo Che ora manca in tv Ma c'è Cerbero Su Twitch Sono un po' gli eredi Io sono uscito Senti Non farmi la piaire Io sono uscito Sono uscito Non farmi la piaire Non farmi la piaire Ercole versus Ercole versus Elia baby Qua secondo me Veramente Si stava uscendo fuori Qua esagerato Dai binari Sì 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 Secondo me no Carcola Facciamo anche pure questo No secondo me Oh Yanxi Ma lei è un pazzo Lei è un folle Grazie Secondo me l'uomo gatto Stava veramente incazzato qua Ma sì ma pure il Il chitano là dietro Che lo plaga Dai Il chitano Secondo me è buono Il tecnico che lo plaga Forse dopo un po' Hanno esagerato Però pure una parte Del chiamino Ma se possono menazzi No menazzi No però sicuramente Capita che magari E' scriptato pure No ragazzi Fermatevi Un po' di energia Però fa essere pure Che hanno esagerato Il tigre cazzeggiava Sì il tigre stava Nel personaggio Sì il tigre sì Però secondo me L'ha fatto incazzare Veramente l'uomo gatto Sì 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 Secondo me sì Sembra vera la reazione Perché dopo Sta tutto nervosito L'uomo gatto Magari un po' Sare nervoso L'uomo gatto Mi è sempre sembrato Più genuino Sì sì Ma l'uomo tigre È stato creato ad hoc Per incazzare L'uomo gatto Sì 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 Hanno creato la nemesi Perfetta per l'uomo gatto Sì 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 Perché era tutto precisino Invece hanno messo uno Un coatto Cioè l'uomo gatto L'avevano costruito Solo nel look Era stato papi Però lui è così Ma infatti ancora oggi è così Io ho visto qualche intervista È uguale L'uomo tigre oggi come sarà? Ah non lo so Forse è Marco Chitano Io Ma lei proprio È un folle totale È Gianluca l'uomo tigre So io il tigre Del tigre Del tigre Ho capito che questa persona Non manterrà Il tigre va fuori Perché è Va via vai Speriamo che io spero Che tu c'hai un bel incidente Sul raccordo E perché se è blur Allora Il tigre Lei va Va Grazie Vedete Ci troviamo il tigre È uomo gatto Mi risosio Questo mantello Che se ne va La rega fa troppo rire Tipo la testa bassa Con il mantello Che svolazza La rega fa troppo rire Ha dovuto abbozzare Perché gli ha detto papi Se ne va però Si vede che è un po' Questo mantello Sei un maleducato Sei un maleducato Non si può dire una cosa del genere Fuori Non è che sparisce Perché l'hai detto te Sparisce perché tu sei stato maleducato Io lo faccio andare fuori Credo A maleducazione Rispondo Non ha risposto Lui stava Lui stava nel gioco delle parti Perdonami di dirtelo Stava nel gioco delle parti Grazie Grazie Però vedi ho stati pure papi Quindi non penso Si è scattata la reazione Non si può dire queste cose Ad una persona Mi hai stancato Ok Lo devi capire Mi hai stancato Non lo dico più Perché io sto giocando con te Anche se da casa E prendo gli insulti Ma queste cose Nella mia commissione Non si fanno Non le dico più Va bene Promesso Non le dico più Stavano approfittate il ragazzo Che aveva dei seri problemi Se vogliamo vederla così Ovviamente Grazie mille A Gianmi Grazie A mia regà Hanno creato appunto L'uomo tigre Per mandare al limite L'uomo gatto Ci sono riusciti E poi blastano a lui Lo incolpano Il faciolo Che non c'entra niente Quello più inconsapevole Lì dentro Contestualizziamo ragazzi È come se noi Invidiamo in maniera fissa Don Vito Cerchiamo di farlo tiltare In tutto e per tutto Poi appena tilta Abbiamo la stessa reazione Di papi Noi perlomeno Lo facciamo tiltare Ma almeno Non gli diciamo Vai fuori Esagerato È accaduto Ci rendiamo conto Che siamo noi la colpa Penso per una ragione Di grandi rummi Penso sia già accaduto Però Insomma Uno si deve prendere Anche le proprie responsabilità Se tu crei un siparietto Devi anche Tenere conto Delle conseguenze E placarle tu Non far scaricare Gabarile al cento per cento Come in questo caso È tutto tutto da te E no Se hai preparato tu Un siparietto Chi per te Cioè la televisione Devi anche È scorretto Saper avere la frusta Però mi so Il circo Ho pensato Ci vuole la frusta Ma noi abbiamo visto Una breve clip De Sarabanda De Non lo so Due minuti E abbiamo analizzato la cosa No pure magari Cercando di vedere Altri significati Che stanno dietro Per parlare più a fondo Di questa cosa Ma nel 97 Come cazzo facevi A criticare In questo modo Cioè ora Grazie mille Cristian Grazie È una riflessione Nel senso Perché ora Possiamo analizzare La tv E magari Pure diciamo Sputtanare In questo caso Papi Perché Proprio sovvertendo Il messaggio Che loro hanno voluto Mandare Io penso Che A quei tempi Non era possibile Ovviamente Secondo me Non si possono Trarre delle conclusioni Su una persona Che non conosciamo Alla fine Suomo gatto Da quel poco Che ho visto Fuori dalla trasmissione Dico Mi sembra Una di quelle persone Che magari ha Un'intelligenza Particolarissima Su certe cose Nel campo musicale Era veramente Genio Su questo settore qua Su altre Magari a livello sociale Non ha quelle skill Io l'ho raccontato Con Obi Il cosiddetto Contabile No Il contabile In un hotel A FUGI Questo era un ragazzo Che aveva dei problemi A relazionarsi Con gli altri Soprattutto con le donne A Spellgirl Sì Probabilmente sì Non lo so Perché ripeto Ero anche piccolino Però era un genio A livello diciamo Matematico Giocavo sempre a scacchi Con lui Ovviamente non dicevo mai Mai Era un mostro Stava sempre là A giocare a scacchio A dama E faceva conti Aveva sempre Ste agendine Una persona Squisita Ma aveva Molti problemi Infatti ricordo anche Che Venni a sapere Dopo anni Che il padre Lo portava a prostitute Perché non riusciva Ad avere Nessun tipo di rapporto Con le ragazze Addirittura Delle scene un po' Particolari Io avevo circa 13-14 anni E c'era un'altra ragazzetta All'interno di questo residence Anche Magari un po' Prosperose Per l'età E lui Alle volte Si assentava E poi faceva intendere Che si era segato Su ste ragazzette Ma è lì che Ma è lì che poi È diventato gay Io me lo ricordo Il contabile Quello con l'H finale No Non quello Non quello Non quello lì Potrei dire È lì che è diventato Il conosciuto italiano In realtà Io Negli anni poi Ho empatizzato molto Anche col padre Non penso Cioè sia una cosa facile Accettare Di portare I tuoi figli A prostituire Perché ti rendi conto Che c'è un problema Di fondo Infatti come si chiama Quella cosa Che propongono Tipo di dare Sollievo Assistenza Assistenza sessuale Assistenza sessuale Esiste È una pensione Anche in Italia Ci sono delle Sì 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 Ci sta Eh vabbè Comunque Ma non era quello Che avevo No 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 Era per estendere Il discorso Nel senso Mi ha ricordato Una persona Che aveva Delle capacità Incredibili Fuori dall'ordinario Indubbiamente Perché era veramente Un genio Su queste cose Però Per quanto riguarda Le skill sociali Eh aveva Qualcosa in meno Indubbiamente E anche alcuni soggetti Asperger Sono così Ma ne abbiamo parlato Oh la madonna Grazie Pippe e coccole Esatto Rempire amore E parlammo anche Ai tempi Con una ragazza Asperger Con Marco Ripà Stavo non so Ripeto Se questo è il caso Però è venuta in mente Sta cosa E volevo solo dico A parte che vabbè Ci hanno pure Corretto in chat Questo tiktok Non ritare Una scena Una scena del 97 E bensì del 2004 Ci hanno detto Però vabbè Siamo in un'epoca Dove diciamo noi Che consumiamo La televisione Possiamo esprimerci Su cose che non ci stanno bene In un batter baleno Beh ma Ovviamente la coscienza sociale Era la diversa E tu prima Dovevi accettare Questa scena Per come te la presentano Cioè L'uomo gatto Ha sgravato Andiamo avanti Invece in questo caso Dato che abbiamo la possibilità Di rivederla Di pausarla Di ragionarci Possiamo arrivare A tutt'altre conclusioni Cioè siamo in un'epoca Assurda Ma questo secondo me Vale per tutto Nel senso che Negli anni 2000 Facevano la stessa cosa Per gli anni 90 Gli anni 80 Vabbè L'esempio massimo È Montanelli Quando raccontò in tv Del fatto Della ragazzina Comprata Grazie mille Scarta patate Grazie Al di là di una ragazza Che contestò a Montanelli Non suscitò in particolare Scalpore Il fatto che lui Avesse acquistato Una ragazzina Sposandola Poi anni dopo Anni dopo Anni dopo ovviamente Beh ma è normale Ma quello è Un discorso culturale Cioè non hai proprio gli strumenti Per valutare certe cose Ma lui l'amava Davide Così È costata ben 40 Fabiolona 12 abbonamenti Forse per cifra tonda Grazie Quanto siamo Buono Quanto stiamo Era un'altra cottura Un altro tempo Sì sì Ovviamente È un esempio estremo Però Secondo me la stessa cosa Si potrà fare lo stesso Col Cerbero Tra dieci anni Tante cose Che abbiamo detto Saranno Contestabili Altre magari invece Magari avanti Che cazzo ne so È normale Ma come lui Magari dal punto di vista Dell'intrattenimento Era avanti anni luce Sì Palesemente Con delle problematiche Comunque andiamo avanti Cosa greve è che Questo non aveva manco capito Cioè a un certo punto È uscito dal fatto Che erano attori E stavano a recitare Perché Non ci sta Secondo me tanto No ma infatti Il fatto che Enrico Papi Si rivolga a lui Comunque dicendogli Era il gioco delle parti Mi fa intuire Che anche Che lui ne abbia parlato Con l'uomo gatto Che comunque Era concordato Lo sa che c'è il gioco Delle parti L'uomo gatto Non è che è stupido Però esagerato Per far show Però il gioco delle parti È proprio volto a farlo tiltà Quindi Accettare di stare In un gioco Dalla parte dell'uomo gatto Accettare di stare In un gioco delle parti Dove so che me faranno tiltà È un'arma a doppio taglio Perché una certa So che tilterò E magari non starò più Nel gioco delle parti L'unico modo Per stare là in tv A quel programma Eppure è vero Che noi non possiamo sapere Il livello di consapevolezza E di intelligenza Dell'uomo gatto Quindi magari Semplicemente Era consapevole Ed ha esagerato Ha capito Che ha sgravato Abbastanza velocemente No appunto dico Non è che dobbiamo Dipingere per forza Come un demente Perché non lo sappiamo Alla fine no Lui è al corrente Nel gioco delle parti Quindi in tal caso Ci può stare il fatto Che Papi Dica stai a esagerare Sì Cioè questo Ma oltre il gioco delle parti Che possiamo accettare Perché augura la morte O greve Sì 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 Gli ha fatto la blurada Gli ha detto A blurada A shak and camion Eh sì Sua salaria Che va a dire Su un raccordo Un raccordo L'unica cosa che potrebbe dire Appunto l'uomo gatto È il gioco delle parti È proprio volto a farmi tiltà Però in questo caso Ho sgravato Tipo Don Vito al milionario Eh sì Cioè lui lo sa che lo stanno a fare Cioè non penso che lo sa Che lo stanno a fare Però se poi esagera È giusto anche Che noi diciamo esagerato Sì È un gioco Un gioco Ragazzi non rompete Il cazzo A Fabiola Veramente Che coglioni Siamo pure su Instagram Che palle regà Cioè Porca troia Che palle Davvero Hai ragione Hai ragione Hai pienamente ragione Bene Allora facciamo che ci capiamo Perché tu devi stare al gioco Perché quel signore Vabbè Però ha capito dai Quel signore è un attore Vabbè lo sappiamo Messaggi ai brutti Raga Ok Aprite le orecchie Ascolta Aprite bene le orecchie Ascolta Ascolta Buongiorno raga Volevo lanciare una pietra Chi mi segue sa Che io non spezzo lancio Ma lancio un pietra Che non si sa mai Che cazzo abbiamo Dietro Quindi magari c'è uno stalker Lanciamola Dimmi tutto Eccomi Dimmi tutto Dimmi un po' Dimmi un po' Della categoria Dei brutti Brutti d'Italia Sì voi Perché voi non capite Del potenziale Che avete Cioè A volte la bruttezza È un dono È un dono Solo che non viene concepito così Ve lo spiego subito il perché Perché questi ragazzi belli Così belli A volte convinti E troppo pieni di sé Hanno rotto le palle Hanno rotto le palle Soprattutto È stato Dose Ho rotto le palle Stai a far sputare la monza Stai ragazzi belli Ho rotto le palle Dalla live con Dose Basta Stima per Marra Stonks in giù Ormai è finita Una volta ti seguivo Adesso tutto quanto è stato cancellato Basta È finito tutto No no basta No no basta Non balco più niente Sono proprio belli Ma non ballano E se ballano Lo sappiamo Lo fanno qua su TikTok Ed io Ce ne scampi Ciao Quindi ragazzi Il mio consiglio a voi brutti È di essere consapevoli Di puntare sempre Sulla vostra Simpatia Sul vostro carattere Perché la donna Tizza È a lungo andare Voi Con cui Sembra uno che di donne Ne capisce comunque Io ascolterei i suoi discorsi Cioè i suoi consigli Sulle donne Perché no dai Attualmente No vabbè Attualmente Attualmente Sembra uno che si scopa Una donna al giorno Vabbè Non lo sapevo Non l'avrei mai detto Scusate Dai Ho fatto Che è l'uomo Che è l'uomo Che è l'uomo C'è ragione Simone Scusa Non bisogna Dar per scontato Cose così importanti Io sto con Simone Ma non bisogna Dar per scontato L'allineamento No no Appunto Grazie Gianluca No vabbè È a lungo andare Voi Conquisterete Gli altri Meno Meno Quindi niente Spero che questo consiglio Vi sia piaciuto Vabbè una cazzata Ha detto puntare sulla simpatia Ma che è Vabbè un consiglio nuovo Mi ha fatto molto piacere A proposito di gay Mi zio mi dà consigli migliori Baby gay Sono nominata cebrole so boscar Che mi fate perde No dai Famo che vinco Ah regà Sono nominata cebrole so boscar Comunque c'ha dei denti brillanti Io non so come faccia No dai Famo che vinco Vabbè non la famo perde Se c'è galoppi Farai cargarismico Che cazzo ne so Oh mister Fai Fargli cargarismi con mister Sì mister Che è Non detto niente Con Mastro Lind Allora Marco sei pronto? Se può più parlare Noi qua siamo pronti Siamo arrivati proprio al capolinea Della comicità Allora Marco e Flame Devono ancora votare per i Boscar Per i Cerberoleso Boscar Ce la posso fare per il Chrome Eccoci qui Io e Simone abbiamo già votato Ma vi diremo le nostre preferenze Allora Marco Lei c'è? Sì sì Allora Voi avete già votato ragazzi? Allora Aspetta Zoomino coliardico magari Ecco Ah non puoi selezionare Bene Provo a aggiornare Io voglio votare Barbara Marrocco Aggiornare la pagina Ok Aspetta Zoomino coliardico Mi dai un attimo il mouse Io devo riaccedere Fino a quando si può votare Se non sbaglio domani Un massimo dopo domani Devo ricontrollare Comunque Ok Allora Miglior ospite VIP femminile Marco Chi voterà lei? Momoka Io ovviamente Momoka? Momoka Non avevo dubbi Marco I critici I critici sociali Stonx Perché voti Momoka? No così È una bella live Molto interessante Ok Mao Zedong È proprio così la canzone Gianluca Lei chi vota? Barbara Marrocco Dov'è? Motivazioni Ma le hai viste le altre? È la live Ma spizzatele un attimo dai È la live che mi sono goduto di più Quale? Devo dire È come se mi fossi riposato Mi sono risentito ricaricato Dopo quella live E per me conta tanto Dov'è? Ah aspetta Un personaggio Ma da letta La sportiva Sollevatrice dei pesi Che cos'è? Però vediamo Giulia Imperio Giulia Imperio Però è scoperto Ah eccola Ecco la Barbara Marrocco Sì se lo merita un votino Però Se devo andare per emozioni Io ho metto Sonia Io ho live Veramente sottovalutata Quella ha scoperto Non me ne vogliono le altre Ma la live con Sonia Mi ha emozionato fortemente Ci sta Sonia Miglior scoperta femminile Miglior scoperta femminile Io ho la Giulia Emso Silvia Giulia Imperio Giulia Valeri Grande Giulia Valeri Beccamorta Bella quella live Ma quanti voti c'ha Beccamorta È stata una bella live in realtà Sì ho fatto un'altra domanda Eh non lo so Potrei controllare Allora questo mio voto Non sarà per niente di parte Vabbè Vabbè ce sta Io ho anche votato Lucia Roma Posso dirlo Io qua Giulia Imperio Io non mi ricordo Io ho votato Lucia Roma Io forse Giulia Valeri VIP Credo Sonia forse Io ho votato Giulia Valeri L'ho anche scritto O Leonardo Giorgio O Sonia L'ho anche scritto in privato Top scoperta Vabbè io Voto mia nonna Anche sapendo che Non vincerà mai Però comunque Per il meme ci sta Però in realtà Secondo me sono merita Perché è tipo una super fan Cioè sempre presente Si è vista Si è vista pure in live Vi farà piacere Che nonna si è vista Tutte le live E quelle che non se le è viste Se le recuperate Quindi No ma fatti Sa che sa più del cerbero Nonna Che noi Che lo conduciamo Ah Gianluca Che ne pensi del fatto Che ho votato Giulia Valeri Invece che tua nonna Ho ceduto Simone Come lo Giulia Imperio Secondo me hai fatto bene Però secondo me Per quello che incarna Questo tuo gesto Deve essere fondamentale Che lei lo sappia Gliel'ho detto Gliel'ho detto E allora hai fatto Tutto correttamente Simone Ovvio Hai fatto tutto correttamente Secondo me Se aggiungevi anche Una cosa Guarda che qualcosa Che voto in più L'ho messo Però non dirlo a nessuno Secondo me sarebbe stato Ancora migliore Allora Vip Allora qua è difficile Io ho votato Dose Qua è difficile E guarda Riccardo Dose C'è Dose Era stato ospite Io brazzo Direi Strong Ospite E lo scripter di Impero Ah giusto Io il punch ho letto Al Pacino Scripte mod Admin di Impero Anthony Nelson Come non votarlo Pela E Angelo Grego Però l'altra Allora vi dico Sono indeciso tra Il Sergente Mettiamo musica Parenzo C'è anche il Sergente Parenzo Jaxe Il link c'è in chat Ragazzi Oddio Parenzo e Jaxe per adesso Sono tantissimi Eh sì Eh oddio Tra Parenzo e Jaxe Sarebbe Galele Massimo esperto Come live proprio Io mi sa che La butto su Jaxe No non è come live Non è come live Questo è il miglior VIP La live è una cosa a parte Cioè Live è In generale Se è stata una live Bellissima Può essere anche una live Mediocre Ma l'ospite è stato Superlativo Viceversa Parenzo Parenzo ok Parenzo sembrava Che stava alla sua Millesima live Quindi insomma Il voto Glielo do Ma abbiamo anche parlato Del motivo Io metto Brazzo Perché mi ha fatto Daia Ci sta Ci sta È stato un ottimo support Top scoperta Invece qua Scoperta Scoperta maschile Scoperta Marchese dei sub Damiano Maggi Find the Pantella Uli Allora io posso dire una cosa Ovviamente Sapendo chi ha vinto Si nota un chiaro Bias temporale Sì Nel senso che Le cose più recenti Sì Hanno chiaramente Più voti di quelle Anche se qualche categoria Ha smentito ciò Vabbè la maggior parte Sì sì ma questo funziona Pure agli Oscar Anche molto recenti Funziona pure agli Oscar Infatti Spesso le case di produzione Cercano di far uscire Determinati film Molto costosi In concomitanza Con gli Oscar Ovviamente si organizzano Dei party Ovviamente Cioè Appunto ci sta scritto Sono candidate Le live tra 800 E 1225 Sicuramente ci ricordiamo Di più Certo Quelle vicino La 1225 Io qua mi sa che ho votato Nicolas Cage Allora Mi sa che si O Max Non mi ricordo Perché era una bella lotta Tra Mediator Max e Nicolas Cage Eh infatti io devo essere onesto Io sono Ma più che altro Per quello che hanno aggiunto Al Cerbero In quest'anno Vabbè Quello direi Max E Meliator Bravo Io sono deciso Tra Max e Meliator Ragazzi Voterei entrambi Quindi Io pure Pure in Futur Motta Per non votare Allora io ne ho Io ne ho due top Voterei uno Come voterei l'altro Quindi ho in mente Di dare un altro voto A una persona Che vorrei anche Ai Botskar Ok Cioè Ducci Mister Crusca Davide Porti Asia No Lucia no Non la portiamo Troppo stress La lasciamo con i nonni Crusca perché secondo me È stato È stato Sottovalutato È entrato in due live In collegamento top E una fisicamente Crusca Ma anche perché lo conosco Posso dire Che è Veramente il top Se Riesci a metterlo Al giusto posto Questo che è Il content è vero Super il villain Miglior villain Io Meliator Per l'aiuto Che mi ha dato Io il mio voto Andrebbe paro 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 Tra Meliator e Max Quindi preferisco Più votare un terzo Ok Marco tu villain Villain È Fabio Z Penso Zaid Allora possiamo dire Che Fabio Z È stato effettivamente Il miglior villain Anche perché ha avuto Una sorta di arco De retenzione Quindi è successo Il contrario Di quello che succede Solitamente Al certo Io ho votato lui Infatti No io forse Ho votato Donali Donali forse Sì No mi sa che ho votato Il portiere Oddio Perché per me Top Sì 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 Top villain È il portiere Noi che stiamo interne Io vi spiego Perché voto Social Boom Social Boom Allora Leggendo molti fumetti Io riconosco Che Social Boom Tira fuori In me Le emozioni Che ti tira Proprio la classica Nemesi Grazie Io vedo in lui La mia Nemesi Ma in tutto questo C'è proprio quel rispetto Alla Batman e Joker Cioè nel senso Che non gli farei Niente di male E quasi io voglio Che lui stia lì Capito come Sento quella sensazione L'ha visto pure Al vivo C'è molto rispetto Tra noi Quindi odio amore Però ci contestiamo In tutto e per tutto C'è un odio amore E quindi si merita Che io lo voti Ok È proprio la mia Nemesi Sento molte più sensazioni Proprio da villain Nei suoi confronti Quindi il mio voto è questo Ma perché? Ho cambiato col portiere Comunque regà Io col Mac Sono negato Tipo da quando stavo qua In sette mesi Sarà tipo la terza volta Che impugno il mouse Miglior live Allora questo è il corrispettivo Agli Oscar Del miglior film Quindi Alcune live possono essere Sia contenutisti Che voliardi Che miglior live Ne abbiamo selezionate un po' La nostra infanzia Immensi al consumismo Ma questa mi è piaciuta tantissimo The live Botgate A cappato Risolviamo i vostri problemi Live mistiche Fotte razziste Blackface Confine Pantella a Seulli Ma conviene leggere tutto Intervista al Cerbero Podcast Brasiliano Non lo so un po' J Axi Studio San Cerbero In onore a Giorgi Studio Valutiamo i vostri curricula Sarete assunti Canepazzo Arrestato per omicidio No clickbait Con Ciccarone Studio Blastiamo Sio Scottex Per le sue boiate Un ordine diverso La live è più modificata Sì ogni volta cambia l'ordine Ogni volta che aggiorna La live è più modificata di sempre David Farenze in God Mode al Cerbero Io ho votato Forse consumismo Quella degli spot Ho ovviamente votato San Cerbero Perché ci sono Ci sta Io pure San Cerbero per la fatica Pure tu hai votato San Cerbero Grazie Anche se quella di Canepazzo E Ciccarone è stupenda Sì sì Ci sono delle top live qua dentro Guarda io sono indeciso Tra quella di Canepazzo E quella a Giorgi Io non l'ho votato Perché ero troppo di parte L'avrei votato ovunque Io magari non mi considero di parte Ma in realtà Nella live dove ero presente L'ho parlato pure Estremamente poco Ma è stata una live Veramente emozionante Sia nel durante Sia per quello che ho visto Che ha suscitato I nostri Io ho cercato di non votare Quelle troppo Tipo Botgate Pure Giorgi Ero troppo Diciamo coinvolto Personalmente Quella di Canepazzo E Cicalone Allora Contenutistica Miglior live Contenutistica Quelle per farci passare Per fake intellettuali Ascani si confessa al Cerbero Cine e social credit Analisi completa Shining Con fronte in diretta Con Feltri J-Axis Studio L'uomo con più memoria al mondo Live intima Grazie al video De Gaia Clerici Andiamo a casa di Marco Merrino In diretta da Milano La dottoressa Federica Casuno In live Riley Black Al Cerbero Favij Live musicale Con chitarra facile Live intima con Max Il Cerbero di un universo parallelo Mr. Rip Si racconta al Cerbero Bella pure quella Ritorniamo in caverna Con fronte in diretta Andrea del 1988 Maria Sofia Patrick 95 Ida si confessa Intervista al Cerbero Brasiliano Stefi Evita in studio Intervista a Supersonia San Cerbero Rick Duferreari in studio Giulio Imperio L'evocazione Con Carrivale Questa è la prima Assoluta Sabagua l'evocazione Domande sulla sessualità Pure questa è bellissima Con due dottoresse Eranora Giorgi Il valore iconografico Di Lucifero Satana Nostra infanzia Morgan si debisce A briglia sciolta al Cerbero Che sta in caverna ancora Lupus Scream Edition Adesso basta Ce ne andiamo in Australia Con Chef Maurizio Botgate Fede si è in live Per parlare L'intervista di Pochele Cappato in studio Ragazzo che ha sconfitto il cancro Ti confesso a Cerbero E grandi ritorno Alla vociata D'Angelo Greco in studio Lupus Scream Edition Sarebbe quella Con l'intro Che abbiamo fatto Esatto Ho messo pure Per far entrare Pure il tuo lavoro Greve Porca troia Che greve Sottoste Te che hai votato qua? Non mi ricordo Per dire Questa la voterei Questa la voterei Questa la voterei Forse ho votato qui San Cerbero E in Miglior Live Un'altra cosa Perché l'ho votato Una volta sola San Cerbero Mi sto a confondere Vedendolo più volte Non mi ricordo Dove l'ho votato Qui San Cerbero E quella di prima Un'altra La prima evocazione C'è qua Nuovo format Bella Madonna regà Sono deciso Tra questa Bella pure questa Per vista super Porca madonna Non lo so Io sto usando Tipo il dino così Per andare sotto Per vista super Perché stai a fare Come per tornare indietro Grazie Non so neanche come si fa Torna indietro Allora sono indeciso Tra quella Domande sulla sessualità Con due dottoresse Non a Giorgi in studio Greve Sai che è però Secondo me Riesco a capire Quale sono quelle Che sono state Un po' più votate Quindi magari Magari lo lascio Eh vabbè Intuido Il discorso Se facciamo pure prima Parenzo e la Giorgi Saranno molto votate Magari è più questa Immagino che quella De Max e quella Della Giorgi Avranno presi Molti più voti Avendo comunque Più preferenze Magari la metto Su quelle Che penso Che hanno votato In meno Ok Se no se votiamo Tutti quanti Allora Miglior live Goliardi Ah E qua pure La Madonna Beh io metto Lupus Scream Per le ore E ore di lavoro Tutte belle Obbligo verità Con Carly Ma la live Che cos'è Era quella su Erk Eh raga So che so So che so De parte Però io mi sono tagliato A sta live Come posso Non votarla Proprio una delle live Dove mi sono divertito Mi sono divertito di più Proprio Mi stava tagliato Come si fa andare sul sito C'è link in chat Ero contentissimo Durante quella live Quanto mi piace Fa Irle Da quando c'ho Sta cazzo De mascherina Io l'ho sempre odiato E per un discorso De mascherina Ma mo che c'ho Sta mascherina Non famo più Irle Io mi tagli Era una cifra Tre ore e mezza Chiamata follia Qual era? Quella che tu sei Nato via Un po' prima Della fine Dove abbiamo C'era Scenetta con Lupin La cosa di Renatino E' stata una live Folle E' stata bellissima E' vero Una live Completamente folle Per quella Sarebbe da votare Poi molti Mi ricordo Per esempio Era quella su Ercole Ah ok Ah 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 Perché lui si tagliava Che il ban The real motherfucking god Portiere per irruzione Vabbè Io perché C'ho gli incubi ancora Obbligo verità Con Carly E Kevin Ma sto tagliato Intervista Metal Carter Il portiere Irruzione in studio Beh io mi metto questa Come già detto Ok Poi Per cambiare Your live cringe Quella di Metal Carter Dov'è? Guarda Neanche le leggo Metal Carter al Cerber Ma dai Sì ragazzi Porca io Non lo so Ha già lui pure Evento speciale Qual è il tuo cartone animato Il cartone animato preferito Analizziamole bene Analizziamole bene Qual è il tuo cartone animato preferito Confrotto in diretta Ercolelia pure top La peggior live del Cerber Era quella con Paolo Cannone Baby Gay Sul milionario Paolo Cannone Scazzatissimo In caverna era Non guardate L'intervista a Lupi Negvi Pure assurda Streaming L'ho scoperto A buttare carani Non lo posso rilevare Confrotto in diretta Con Rimi Alla prima live Con Patrizio Confrotto in diretta A Cupido e Max E pure il gioco De Montemagno Mamma mia Il patriota Raggi Verso il comunista Quella stupenda Io invece lo dico Io lo dico Si va in guerra E te con quel cappello Le hanno detto tutti Che la cosa più difficile È stata questa Scegliere il miglior meme Allora per ora Metto e te con quel cappello Poi andiamo avanti Analizziamoli Io quella prima Evento speciale a Lupus Comunque Ah quella Che mi ha fatto soffrire La live Non voglio essere di parte Che mettere questa Si va in guerra E te con quel cappello Continenza Masso il lavoro Vericognoso E io C'erano segnalati mille Ne parlavo l'altro giorno Goanna Iban Griego Iban Griego Ma parlavo di cose Un po' spiacevoli Più o più spiacevoli Iban Griego Pompinò Grande Ulli Io dico sempre La verità Non si deraglia Non si deraglia Perdonami Marco Mister VPN Signor Io sto a mettere Quello che mi ha fatto più ridere Non si deraglia Stavamo lì Allungami Nessere continuare Brodino E sto cazzo Di virus Che non esiste Quella tra falliti Non mi interessa Questa diciamo Che è quella main Sì Diciamo che è quella Più utilizzata Senta i minottoni Potrebbe essere questa Bubulus Capito Sono quelle che non voterei Quelle troppo main Bubulus Oddio I stress barra Ti dirò È molto potente Paritemi I stress barra Come Bubulus E guerra tra falliti No Grimbaud No Grimbaud Ma Bubulus È più di un meme È proprio Ormai È proprio Una filosofia di vita È proprio Una parola Da vocabolario Un termine No Grimbaud Pure top meme Sono me Portfolio Desueto Curioso sul livello Mi sarà Fisicamente impossibile Fare ritardo Ma c'è Gawa didattica Ah però non c'è Ma sa Gawa didattica Portfolio Non lo posso rilevare Mi ricordo Electro Scusa Hai un fazzoletto Di carta Il cd metal carter Che è proprio Un meme assistante Cioè che si porta Tante cose Oddio Va dopo Questo C'è più probabilità Su livello statistico Per la chiesa Di leggere un papa nero Di me che digiti Sulla barra di ricerca Slindox Cioè di men po C2 Gianlupo Bello mio Il bullismo Non ti rende forte Lo sport Invece sì I piedi Ma sono troppi Un po' di leisure Problema logistico Dovrebbe tornare Dovrebbe tornare Mi ricordo Electro Mi fa troppo ridere Mi ricordo Electro Perché è partito Involontariamente Io mi sono confutato Dio Diciamo che alcuni Non so propriamente meme Altresi termini Non sideraia Io qua non me lo ricordo Un po' di continenza Mi fa tagliare pure Perché è nato pure così Forse sì Ce l'hanno segnalato In mille Io penso che Il miglior meme oggettivo Sia Guerra tra falliti Il più di successo Penso di quest'anno Quello più longevo Sicuramente Perché è partito In caverna Sì sì Un sacco di mesi fa Stavi che abboccia Cioè era proprio Post-Boscar Post-Boscar in caverna Sì 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 Infatti ho detto Quelli più main Ho evitato E poi comunque Per essere così forte Virgola inteso All'interno di Guerra tra falliti Ragazzi Esatto È un'estensione Di quella Guerra tra falliti A frate Reaction Faccio a modo mio È subentrato Leggermente dopo Ma però è neanche Una cosa nostra Non è nostro Cioè ci abbiamo fatto Un paio di risate sopra Ma non potrebbe essere No Grimbaud Era del gabrone Però l'abbiamo utilizzato tanto Il tuo voto è canonico Però aspetta Specifichiamo sta cosa Che No Grimbaud È del gabrone Sì 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 Perché è vero Che l'ha detto prima Il gabrone Ma quando l'ho detto io L'ho detto Senza sapere Che l'aveva detto Prima il gabrone Perché poi non è che Ceva tutta st'inventiva Insomma No Grimbaud No rispetto per il gabrone Però Io per correttezza Sono stato il primo A dire L'ha detto prima il gabrone Quando l'ha detto il gabrone Quando l'ha detto il gabrone Quando l'ha detto il gabrone Una manifestazione Una manifestazione No Grimpass A Milano Linkarono sto video Del gabrone Dove tutti facevano No Grimpass Lui faceva No Grimbaud Io mi sono messo a dire Ho detto Ha fatto pure lui Ma non è che mi sono sentito O che l'ho rubato O che l'ho scammato È che sarà una cosa Genuina Però per correttezza Giù Sto dire che l'ha detto Il gabrone prima Ma non è un meme Del gabrone Scusate Se uno pensa No Grimpaud Ma è più meme Cerbero L'abbiamo reso meme Noi assolutamente Non è per farla Quella i meme Insomma Io lo sento Come un meme Del nostro canale Solo per dire questo Non per altro L'abbiamo visto in live Io me lo ricordo Io l'abbiamo proprio Rimosso Sta cosa del gabrone Si l'abbiamo visto Generato a caso No non è vero L'aveva detto lui Assolutamente sì I piedi io voto comunque I piedi I piedi Però comunque Non da voto Dai Abbiamo reso No Grimpaud No Non gli ho voluto da Dai Ragazzi Spero che abbiate votato Pure voi Gli ultimi procrastinatori Così almeno I bosca ci saranno Belle nomination Corpose Diciamo Da tanti voti Assolutamente sì Ci vediamo questa sera Alle 21 Con il pub del collegiale L'Orfanotrofia Eee Ciao L'Orfanotrofia Del web Stasera Cazzo Mamma mia Dai a stasera Ciao 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 Stasera E' l'Orfanotrofia E' l'Orfanotrofia State pure registrando Doppia il bagno Grazie a tutti.